28. Il tempo passava. Josh giudicava il suo passaggio dal numero di barattoli vuoti che si stavano accumulando in quella che considerava la discarica, quell'area fetida nell'angolo più lontano che entrambi usavano come bagno e in cui gettavano i vuoti. Mangiavano un barattolo di verdure ogni due giorni e uno di un prodotto di carne, come carne in scatola o scatolette, a giorni alternati. Josh calcolava il passare dei giorni in base ai movimenti del suo intestino. Era sempre stato regolare come un orologio, per cui i viaggi alla discarica e il numero di vuoti gli davano una stima ragionevole del tempo e adesso calcolava che avevano passato nella discarica da 19 a 23 giorni, il che voleva dire che era un giorno compreso tra il 5 e il 13 agosto. Certo non c'era neanche modo di sapere da quanto tempo erano laggiù prima che avessero abbozzato quell'organizzazione, quindi Josh pensava che probabilmente erano più vicini al 17, che voleva dire che era passato un mese. Aveva trovato una confezione di batterie per torce nella terra, per cui da quel punto di vista non avevano problemi. La luce gli mostrò che avevano consumato la metà delle loro scorte di cibo. Era ora di iniziare a scavare. Mentre raccoglieva la pala e il piccone, sentì il loro goffer frugare felicemente tra i barattoli della discarica. L'animaletto prosperava con i loro avanzi, che non ammontavano a molto, e leccava i barattoli con così tanta cura che vi si poteva vedere il proprio volto riflesso sul fondo, il che era qualcosa che Josh evitava decisamente di fare. Swan dormiva, respirando tranquillamente nel buio. Dormiva molto e Josh immaginava che quello era un bene. Stava risparmiando le sue forze, andando in ibernazione come un piccolo animale. Eppure quando Josh la svegliava, lei si alzava all'istante, concentrata e attenta. Lui dormiva a poca distanza da lei e lo stupiva quanto era in sintonia con il respiro della bambina. Di solito era profondo e lento, il suono dell'oblio, ma a volte era rapido e ansimante, il rantolo di ricordi, brutti sogni, l'assorbimento della realtà. Era quel suono che svegliava Josh dal suo sonno inquieto, e spesso sentiva Swan chiamare sua madre o dei confusi suoni terrorizzati, come se qualcosa la stesse inseguendo attraverso una desolazione di incubi. Avevano avuto molto tempo per parlare. Lei gli aveva raccontato di sua madre e degli zii e di quanto le piaceva piantare i suoi giardini. Josh le aveva chiesto di suo padre. Lei aveva risposto che era un musicista rock, ma non aveva aggiunto altro. Lei gli aveva chiesto come fosse essere un gigante e lui le aveva detto che sarebbe stato un uomo ricco se avesse avuto un quarto di dollaro per ogni volta che aveva battuto la testa contro il telaio di una porta. Inoltre era difficile trovare abiti abbastanza grandi, anche se non le disse che si era già accorto che la sua cintura si stava allentando e che le sue scarpe erano fatte su misura. Per cui, aveva detto, immagino che essere un gigante sia dispendioso. Per il resto, credo di essere più o meno uguale a tutti gli altri. Quando le aveva raccontato di rose dei ragazzi, aveva provato con tutte le sue forze a impedire alla sua voce di rompersi. Era come se stesse parlando di estranei, gente che conosceva solo come fotografie nel portafogli di qualcun altro. Raccontò a suon dei suoi giorni nel football, di come era stato MVP in tre partite. Il wrestling non era così male, le disse. Era denaro onesto e un uomo grosso come lui non poteva fare molto altro di legale. Il mondo era troppo piccolo per i giganti. Costruiva porte troppo basse, mobili troppo deboli e non esisteva neanche un materasso che non cigolasse quando lui si sdraiava per riposare. Nei momenti in cui parlavano, Josh teneva la torcia spenta. Non voleva vedere il volto ricoperto di vesciche della bambina e i resti di capelli, ricordando quanto fosse stata carina e inoltre voleva risparmiare a lei la vista della sua faccia repellente. Le ceneri di Popo Briggs erano state seppellite. Di quello non parlarono affatto, ma l'ordine proteggi la bambina restava nella mente di Josh come il rintocco di una campana di ferro. Accese la torcia. Swan era rannicchiata nel suo solito posto, dormendo profondamente. I fluidi secchi delle vesciche scoppiate brillavano sul suo volto. Dalla fronte e dalle guance le pendevano pieghe di pelle come sottili strati di vernice screpolata e sotto di esse la carne scarlatta stava producendo nuove vesciche. Le toccò gentilmente la spalla e gli occhi della bambina si aprirono all'istante. Erano iniettati di sangue, con le ciglia gommose e gialle, e le sue pupille si strinsero come capocchie di spillo. Allontanò la luce da lei. È ora di svegliarsi. Inizieremo a scavare. Lei annui e si mise a sedere. Se lavoriamo entrambi sarà più veloce, disse lui. Io inizio con il piccone, poi vorrei che tu spalassi la terra smossa. Va bene? Va bene, rispose lei, e si mise su mani e ginocchia per seguirlo. Josh stava per strisciare fino alla buca del gopher quando notò qualcosa nel riverbero della luce che non aveva notato prima. Spostò il raggio di nuovo sul punto dove lei stava dormendo. «Suon, quello cos'è?» «Dove?» Lo sguardo della bambina seguì il raggio di luce. Josh appoggiò la pala e il piccone e abbassò la mano. Dove Suon era solita dormire, c'erano centinaia di piccoli esmeraldini fili d'erba. Non proprio erba, si rese conto. Germogli di qualche tipo. Piccoli germogli di... erano nuovi stocchi di gran turco. Fece girare la luce. La vegetazione soffice e bassa cresceva soltanto dove dormiva Suon. Ne tirò un po' per esaminare le radici e notò che Suon salì. «Che succede?» «Non mi piace quel suono». «Suono? Quale suono?» «Un suono di dolore», rispose lei. Josh non capiva di cosa stesse parlando e scosse la testa. Le radici si allungavano per cinque centimetri. Delicati filamenti di vita. Era ovvio che stavano crescendo lì da un po', ma lui non riusciva a capire come i germogli avessero messo radici senza una goccia d'acqua. Era l'unico pezzo di vita verde che aveva visto da quando erano intrappolati lì. Ma doveva esserci una spiegazione semplice. Immaginò che il vortice avesse fatto finire dei semi lì dentro e in qualche modo avevano messo radici ed erano germogliati. Tutto qua». «Certo», pensò. «Hanno messo radici senza acqua e sono germogliati senza la minima luce solare. Aveva più o meno tanto senso quanto Pou Pou che decideva di emulare un fuoco d'artificio». Lasciò cadere di nuovo i germogli verdi. D'un tratto Swan raccolse una manciata di terra, la lavorò tra le dita per qualche secondo con determinazione e coprì i germogli. Josh si appoggiò all'indietro e tirò le ginocchia al petto. «Cresce solo dove dormi tu. È piuttosto strano, non pensi?». Lei si stringse nelle spalle. Poteva percepire che l'altro la osservava con attenzione. «Hai detto di aver sentito un suono», continuò lui. «Che tipo di suono era?». La bambina fece di nuovo spallucce. Non sapeva come parlarne. Nessuno le aveva mai chiesto cose simili. «Io non ho sentito nulla», disse Josh e allungò di nuovo la mano verso i germogli. Lei gli afferrò la mano prima che li raggiungesse. «Come ho detto, un suono di dolore. Non so esattamente». «Quando le ho raccolti?». «Sì». «Oh signore», pensò Josh. «Sono quasi pronto per una stanza con le pareti imbottite», aveva pensato, guardando la forma dell'area verde nella terra, che cresceva lì perché il corpo della bambina la faceva crescere. Che fosse la sua chimica o altro che reagiva con il terreno, era un'idea folle. Ma era lì». «Come? Come una voce?». «No, non così». «Mi piacerebbe che me ne parlassi». «Davvero?» «Sì», disse Josh. «Davvero». «Mia mamma diceva che era immaginazione». «Lo è». Lei esitò e poi disse con fermezza «No». Le sue dita toccarono con tenerezza i nuovi germogli, sfiorandoli appena. Una volta mia mamma mi ha portata in un locale per ascoltare la band. Zio Warren suonava la batteria. Ho sentito un rumore come un suono di dolore e le ho chiesto cosa lo avesse prodotto. Mi ha detto che era una steel guitar, di quel tipo che si mette sulle gambe e si suona. Ma nel suono di dolore ci sono anche altre cose». «Il suo sguardo incrociò quello di Josh». «Come il vento. O il fischio di un treno molto lontano. O il tuono molto prima di vedere il lampo. Un mucchio di cose». «Da quanto tempo sei in grado di sentirlo?» «Da quando ero una bambina». Josh non riuscì a fare a meno di ridere. Suon lo fraintese. «Ti stai prendendo gioco di me?» «No, forse vorrei poterlo sentire un suono del genere. Sai che significa?» «Sì», rispose Suon. «Significa morte». Il sorriso di Josh si incrinò e scomparve. Suon raccolse della terra e iniziò a lavorarla lentamente, sentendone la consistenza secca e friabile. «È peggio in estate. È quando la gente porta fuori itosa erba». «Ma è solo erba», disse Josh. «In autunno il suono di dolore è diverso», continuò lei come se non lo avesse sentito. «È come un enorme sospiro. E poi le foglie cadono. Poi in inverno il suono di dolore smette. E tutto dorme». Si scosse dal palmo i resti di terra e li mischiò al resto. «Quando inizia a fare caldo di nuovo, il sole fa pensare alle cose di svegliarsi». «Fa loro pensare di svegliarsi». «Ogni cosa può pensare e sentire, a modo suo», rispose lei e alzò lo sguardo su di lui. «Gli occhi nel suo giovane volto erano molto vecchi», pensò Josh. «Insetti, uccelli, anche l'erba. Ogni cosa ha il suo modo per parlare e conoscere. La questione è solo se riesci a capirlo o no». Josh grugnì. «Insetti», aveva detto. Ricordava lo sciamme di Locust che aveva attraversato la sua Pontiac nel giorno dell'esplosione. Non aveva mai pensato prima alle cose che lei stava dicendo. Ma si rese conto che c'era della verità in quelle parole. Gli uccelli sapevano di dover migrare quando cambiava la stagione. Le formiche costruivano formicai in una frenesia comunicativa. I fiori sbocciavano e appassivano. Ma il loro polline continuava a vivere, il tutto secondo un grande e misterioso schema che aveva sempre dato per scontato. Era semplice come l'erba che cresce e complicato come la luce di una lucciola. «Come fai a conoscere queste cose?» le chiese. «Chi te le ha insegnate?» «Nessuno. Le ho capite da sola». Suon ricordò il suo primo giardino, che cresceva in un recinto di sabbia nell'area giochi di un asilo. Erano passati anni prima che scoprisse che tenere della terra non faceva formicolare le mani di tutti con una sensazione di spilli e aghi, o che non tutti erano in grado di capire dal suo ronzio se una vespa voleva pungere o soltanto ispezionare il tuo orecchio. Lei l'aveva sempre saputo e basta. «Oh», disse lui. La guardò strofinare la terra tra le mani. I palmi di suon formicolavano e le sue mani erano calde e umide. Josh guardò di nuovo i germogli verdi. «Io sono solo un lottatore», disse a voce molto bassa. «Tutto qua. Voglio dire, dannazione, io non sono nessuno». «Proteggi la bambina», pensò. «Proteggerla da cosa? Da chi e perché?» «In che diavolo mi sono cacciato?», sussurrò. «Eh?», disse lei. «Nulla», rispose Josh. Gli occhi di suon erano di nuovo quelli di una bambina e lei mescolò il resto della terra al suolo intorno ai germogli. «Faremmo meglio a iniziare a scavare adesso. Sei pronta?» «Sì». La bambina afferrò la pala che lui aveva messo giù. La sensazione di formicolio e calore stava lentamente svanendo. Ma lui non era pronto, non ancora. «Swan, ascoltami un attimo. Voglio essere sincero con te, perché penso che tu sappia gestirlo. Tenteremo di uscire da qui. Ma questo non vuol dire che ce la faremo. Dovremo scavare una galleria molto grossa perché io riesca a passarci. Ci vorrà del tempo e di certo non sarà un lavoro semplice. Se crolla, dobbiamo ricominciare da capo. Immagino che quello che sto tentando di dire è che non sono sicuro che riusciremo a uscire. Non ne sono affatto sicuro. Mi capisci?» «Lei a noi senza parlare». «È un'altra cosa», aggiunse Josh. «Se, quando usciremo, potrebbe non piacerci quello che troveremo. Potrebbe essere cambiato tutto. Potrebbe essere come svegliarsi dopo il peggiore incubo che riesce a immaginare e scoprire che l'incubo ti ha seguito nel mondo reale. Mi capisci?» Suona a noi di nuovo. Aveva già pensato a quello che lui stava dicendo, perché nessuno era venuto a tirarli fuori, come aveva detto sua madre. Fece la faccia più adulta possibile e attese che lui facesse la prossima mossa. «Va bene», disse Josh. «Iniziamo a scavare» «Non vi puoi più scopo in fatto. Non vi consentперi un po' odò dell'ingizzo «Non vi consiglio questo, perché se l'allarifito, non puoi qui adesso e anche l'allare Grazie a tutti.